Oggi abbiamo fatto un esercizio bellissimo, passo incrociato, tuffo e bloccare il pallone a terra, sia raso terra che a mezza altezza. Complimenti a Raffaele e a Marco che hanno svolto l'esercizio benissimo. Oggi ho il massimo. 50 metri in metro da allí. Passo, passaggio, un pochino, un pochino, un pochino, un pochino. Vediamo così, una mano sotto e una sopra. L'alzo, e da valle a questa. ciao Artù ciao Raffaele ottimo, ciao Artù va bene va bene va bene va bene va bene va bene vi